Ciao, mi chiamo Giuseppina Vona e sono un consulente di Lead Generation. In questo momento sto cercando un'opportunità di lavoro e dopo aver lavorato per vent'anni in comunicazione marketing. Ho concluso una consulenza come ero dipendente al 31 dicembre, ma in questo momento voglio aprire la mia attività, veramente, è la mia opportunità. Qui volevo conoscere meglio cosa fosse funnel e in fondo mi sto rendendo conto che io faccio funnel, ma non in modo strategico. Questo evento per me è stato importante per creare un po' il puzzle informativo di ciò che io ho fatto nel mio passato, perché in questo momento vorrei mettere le basi per costruire la mia attività, che sarà sicuramente Lead Generation.